Le decorazioni della collezione Bonnie. Per arredare il tuo salotto ti propongo dei morbidi plaid in pile che richiamano i tartan della linea, coordinati con il cuscino a quadri e con il cuscino a forma di cuore. Entriamo nell'atmosfera del Natale dando un tocco country chic al tuo albero, con questi maglioncini tartan che possono essere utilizzati anche come chiudi pacco.